Ti presentiamo ECODOT, un altoparlante compatto controllato dalla tua voce e da Alexa. È dotato di un design moderno e di un altoparlante potente. È progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente, perfetto per la camera da letto, la cucina o da tenere sulla scrivania. E può riprodurre tutti i tuoi brani preferiti. Alexa, mettiti la musica per studiare. Ecco una playlist di musica per studiare. Alexa, comincia la mia giornata. Grazie alle routine di Alexa, ECODOT può accendere la luce, alzare la temperatura e molto altro con un solo comando. Alexa può anche controllare che impegni hai, darti le ultime notizie e aiutarti a cucinare. Alexa, imposta un timer da 8 minuti per la pasta. Timer pasta, 8 minuti a partire da ora. E la cosa migliore è che ECODOT e Alexa diventano sempre più intelligenti e nuove funzionalità e skill vengono aggiunte costantemente. ECODOT. Da Amazon.